Riaperte le scuole a Feenza. Per le superiori bisognerà attendere ancora un giorno. Per i studenti un giorno in più per aiutare chi ha perso tutto durante l'alluvione. Dal punto di vista scolastico, il simbolo degli allagamenti che hanno invaso a Feenza è l'Istituto Comprensivo Matteucci. La scuola di infanzi del Girasole è stata completamente sommersa dall'acqua, dell'amone, distrutta. Difficilmente si riuscirà a recuperare qualcosa. Si dovrà poi verificare l'abitabilità dell'edificio, visti i numerosi danni riportati dalla struttura. All'interno e nel cortile una distesa di fango ricopre mobili e giochi dei bambini. Tutti gli elaborati prodotti nel corso degli anni a testi demoniari progressi dai 3 ai 6 anni andati distrutti. Le sezioni che animavano il Girasole sono state trasferite alla scuola Tolosano. Per non tutti però sarà facile tornare nell'immediato in classe. A Feenza sono ancora 281 le persone che vivono nei centri di accoglienza. Nella mattinata sono stati organizzati dei servizi di trasporto per raggiungere gli istituti. La scuola Pirazzini in centro, a Feenza e l'altra, ferita dalla seconda ondata di maltempo. Per raggiungerla, alunni e famiglie continuano a fare lo slalomo fra le montagne di rifiuti rimosse da cantine pian terreni, di case e uffici. Davanti all'ingresso la strada è stata liberata dai cumuli ad accogliere i bambini per una distesa di fango. Lo stesso fango che ancora oggi invade cortile, sala mensa, palestre e laboratori rendendoli inagibili. Non potendo utilizzare gli spazi per il pranzo, i bambini mangeranno quindi in classe. Si è tornata in classe anche alla scuola dell'infanzia all'isola di Nimo, devastata dalla prima ondata di maltempo e per questo già trasferita in via Fornarina. A Casola Valsegno, Castel Bolognese, Solorone Sant'Acara, sul Santerno, la situazione è ancora peggiore. A Lugui rientro in classe sarà posticipato di un giorno, mentre Conselice è ancora sotto l'acqua e ogni spostamento al momento risulta impensabile. Inaccessibili a Ravenna le scuole elementari di Roncalceci e la scuola dell'infanzia, sezione primavera a Fism, Madonna della fiducia. Per tutti sarà comunque un rientro in classe delicato, non ci saranno interrogazioni e verifiche. Ai docenti è stato chiesto di ascoltare il disagio dei loro studenti che in una notte hanno perso tutto. Per quanto riguarda le superiori, si sta valutando come consentire ai ragazzi di recuperare eventuali insufficienze e di come organizzare gruppi di studio per coloro che dovranno affrontare la maturità.